Dicembre alle porte, il Natale sempre più vicino, periodo dell'anno in cui le amministrazioni comunali non perdono occasione per investire nell'accoglienza turistica. Tra i gioielli di Puglia, già mete turistiche per la loro innata bellezza, c'è Lecce che vanta numerose iniziative in calendario. Lecce offre tanto, tantissimo, ogni sera tanti eventi, tante iniziative. Il Natale è un Natale ricco di attrazioni, penso ai mercatini, alla Fiera dei Puglia e dei Presepi, ai concerti nelle chiese e poi gli artisti di strada. Insomma, un bel programma, motivo per cui da qualche anno anche il Natale è diventato un momento di accoglienza turistica, un momento importante dal punto di vista delle presenze. Cortili aperti a Natale, che facciamo il 30 dicembre. Insomma, un gran bel programma, per cui vi invitiamo a trascorrere qualche giorno qui a Lecce in occasione del Natale. Tutte queste informazioni dove possiamo trovarle? In questo momento le potete trovare su lecceinscena.it, che è il portale che l'amministrazione ha messo in piedi qualche anno fa per raccogliere un po' tutte le iniziative culturali di spettacolo e in genere. Ma stiamo lavorando per mettere in piedi invece questo grande portale Visit Lecce, che sarà invece un unico grande contenitore utile sia ai turisti che ai cittadini residenti per tutte quelle che sono le informazioni indispensabili su tutta una serie di servizi, per cui prestissimo sarà online.